Ci sarebbero voci di parlamentari che cambiano casacca e vanno nella Lega. E questa è la dimostrazione del fatto che quando Matteo Salvini ha capito che questo governo va avanti, vuole fare le riforme, che vuole cambiare questo paese, Matteo Salvini ha deciso di aprire il mercato delle vacche. Io mi auguro che a questo mercato non partecipi nessuno, ma è evidente che dalla Lega stiamo vedendo quello che provava a fare Berlusconi ai tempi di De Gregorio, ora non so con quali modalità, ma è evidente che c'è un mercato delle vacche che la Lega sta provando a portare avanti e mi auguro che se ci dovessero essere gli estremi le autorità giudiziarie possano verificare il tutto.